La Fondazione Pescara Abruzzo apre il Club Museum, un nuovo polo espositivo di Pescara interamente dedicato al fumetto. La struttura di originale architettura moderna, disposta su quattro livelli, è stata acquistata e riqualificata dalla Fondazione con un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro. La collezione permanente, dedicata ad Andrea Pazienza, si sviluppa con un'esposizione che conta ben 324 opere in totale. Attualmente ospita Tannino Liberatore, che è protagonista della personale dal nome di corpi e frammenti. L'iniziativa del Club è insolita, è il primo vero museo italiano dedicato alla nuova arte, privilegia l'attenzione anche alla storia della comunità locale, infatti i protagonisti di questo museo con una temporanea e con una sezione allestita in forma permanente rivolge l'attenzione a due veri protagonisti internazionali del fumetto, quali sono Andrea Pazienza e Tannino Liberatore, che entrambi però hanno studiato a Pescara, hanno fatto i primi passi artistici nella nostra città, quindi da una parte c'era anche il dovere per la memoria e dall'altra anche una opportunità straordinaria per valorizzare una tradizione e candidare la nostra comunità essere protagonista nell'ambito della cultura del fumetto a livello nazionale e internazionale. Nel febbraio 2021 ricordiamo l'apertura di un altro importante contenitore per l'arte, l'Imago Museum, alla quale è intervenuto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha sottolineato come la cultura è uno degli aspetti più importanti della convivenza. I treppieni dello storico palazzo dell'ex Banco di Napoli, nel cuore di Pescara, ospitano il Museo d'Arte Moderna e Contemporanea, con ben 1200 metri quadri di spazi espositivi con collezioni permanenti e mostre temporanee. Acquistato nel 2013 dalla Fondazione Pescara Abruzzo e trasformato in polo museale, ospitando come prima mostra Andy Warhol e Mario Schifano, tra pop art e classicismo. Allestita su due aree del museo, successivamente la mostra Impressionisti Scandinavi d'Abruzzo e ancora una rassegna di artisti figurativi del Novecento, dal titolo Arte, Immagine e Verità. 130 opere del XX secolo, centrate sul tema della realtà storica, donate da Alfredo e Teresita Paglione.